L'Italia è vicino ai libici e ho detto oggi a MyTig che noi saremo vicino a loro, non davanti a loro, rispetteremo i loro tempi e cercheremo anche di aiutarli a non rimanere vittime delle ingerenze che possono venire dal di fuori. Noi dobbiamo far capire alle Nazioni Unite laddove ci sono dei miglioramenti che quei miglioramenti ci sono stati, quindi lavoriamo insieme alla Libia per portarli e condurli verso questo obiettivo. In questo mio primo incontro io ho incontrato il soggetto, ho incontrato il governo che sta procedendo nel processo segnato dall'ONU, ma quando dico che il processo deve essere inclusivo significa che tutti gli altri soggetti che rappresentano il Paese devono entrare in questo processo, altrimenti non si arriverà mai alla stabilizzazione della Libia. Quindi io credo che in un secondo momento cercherò di incontrare anche Aftar, ma anche tutti gli altri soggetti con i quali dobbiamo parlare per stargli a fianco, non per dirgli quello che devono fare. La collaborazione da parte nostra sui confini a sud ci è stata richiesta e è di assoluto interesse. Abbiamo parlato di questo argomento, cercheremo il prima possibile di organizzare una missione di ricognizione.